Li conoscete i grissini rubatà? Sono una specialità tipica piemontese dalla forma rotolata. Iniziamo la preparazione dei grissini unendo lo strutto e l'acqua e iniziamo a mescolare. Aggiungiamo il lievito, il malto ed impastiamo per bene. Aggiungiamo il sale e impastiamo ancora. Ed ecco pronto l'impasto per i nostri grissini. Ed ora lo mettiamo a nanna. Impasto pronto. Stendiamo la base e ritagliamo dei tocchetti. Creiamo il nostro grissino. Il rubatà ha la caratteristica forma arrotolata. Dovrete ruotare una mano verso l'alto e una verso il basso. Mettiamo a riposare ancora un po' nella teglia. Non resta che assaggiarli. Davvero irresistibili.